Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova puntata della serie di sopravvivenza Ci troviamo nella nostra casetta perché ragazzi tra una puntata e l'altra è successo un po' di tutto In particolar modo mi sono rifatto l'inventario, come vedete ho tutti gli oggetti di nuovo full Ho anche tutti i fachieri artificio, ho preparato un po' di materiale extra Ho ripristinato tutte le armature, gli attrezzi con i commanding, eccetera eccetera Ragazzi insomma mi sono preparato per questa puntata e ne ho approfittato anche per rifarmi un attimo il look generale Questo perché tra una puntata e l'altra ho soprattutto terminato la piattaforma gigantesca E fare questa piattaforma è stato un bel dispendio di energie, di materiali e anche di utilizzi Quindi ragazzi ho detto, sapete che c'è? Ho già perso un sacco di tempo Mettiamoci tutti a posto che è una cosa che non faccio quasi mai Quindi facciamola adesso così non ci pensiamo più Infatti adesso andremo a usare le nostre belle litra linde e integre appena uscite dalla farm di Enderman E non si aprono neanche però, potreste aprirvi? Grazie E svolazziamo subito in direzione della nostra farm di creeper caricati Perché ragazzi voglio farvi vedere la piattaforma completa Che è gigantesca ma neanche così troppo grande come potreste immaginare E soprattutto vi voglio specificare alcune cose che sono emerse nei commenti e alcuni dubbi che avevate Eccoci qui ragazzi, la piattaforma completa con il sistema anche di smistamento tra virgolette sotto Qui ci sono tutte le celle pronte, c'è già la farm di creeper collegata che può portare i creeper qui Ovviamente le celle sono tutte vuote In queste celle dovrò mettere un creeper a cella, quindi un totale di 100 creepers riusciremo E in teoria per non farli desponare si dovrebbe usare una targhetta Noi proveremo senza perché fare 100 targhette significa fare tipo 200 smeraldi Non è proprio consigliabile al momento Innanzitutto questa farm è ispirata a un design che ho visto in un video di un utente chiamato Ioser100 Quindi non so come si pronunci E ce n'è un altro che si chiama CubeFan135 Insomma ragazzi, è una farm che è fatta da molti youtuber apparentemente Tant'è che i video che ho visto sono di due anni fa Quindi penso che sarà anche un design praticamente obsoleto Comunque ho deciso di seguire questo design per la piattaforma Il resto della farm sono andato un po' a cazzo di cane Nel senso che nel corso del tempo Vi ricordate da quant'è che voglio fare questa farm? Sarà passato un anno Mi sono spesso, più e più volte Ispirato alla farm e cambiano 3000 volte idee Per poi fare una cosa più semplice possibile E alla portata un po' di tutti Anche la portata mia Ma soprattutto per voi, per potervela fare riprodurre Insomma non volevo fare niente di troppo complicato Quindi, che cosa è successo? Abbiamo fatto questa piattaforma Il resto della farm la sto facendo dove mi porta il cuore Diciamo così Cosa facciamo con questa farm? E come funziona? Innanzitutto ne avete sottolineato in tanti La netherrack, l'utilizzo della netherrack Io ho detto che l'avrei utilizzata alla cazzo di cane Perché ne avevo un sacco E perché semplicemente mi risulta comodo usare la netherrack Visto che ho due double chest piene Ed effettivamente è così L'ho utilizzata solamente perché ne ho un sacco Mi tornava comodo Ha un altro utilizzo? Sì Funziona come segnalatore per i fulmini Avete perfettamente ragione a dirmi questo Quindi se cadesse un fulmine Il fulmine causerebbe del fuoco sopra la netherrack E in questo modo ti segnala dove è caduto Ma, cioè ma A me questa cosa non interessa Perché questa farm Non funzionerà mai Mentre sono via Non funzionerà mai Mentre sono AFK Io me ne starò semplicemente Da qualche parte Aspettando una tempesta E quando cadrà un fulmine Lo vedrò ad occhio Dove cade Perché ho intenzione di registrarlo Per farlo nel video Quindi non ho bisogno di vedere il fuoco Perché non ho bisogno di alcuna segnalazione Quindi capite il mio discorso qual è L'ho usato la netherrack E quindi solamente Perché mi risultava comodo Altri hanno detto che funge la parafulmine Ragazzi Non so da dove esce questa cosa Ma non funge la parafulmine e la netherrack Semplicemente segnala il fulmine È diverso Un parafulmine in minecraft Purtroppo non c'è L'unica cosa che ci si può avvicinare È lo scheletro La trappola che spawna i cavalieri Dell'apocalisse Tra virgolette Per cui se trovi Durante una tempesta Un cavallo scheletrico È probabile che gli cadda Un fulmine addosso E si trasformi in una trappola Però non so Se saremmo mai in grado Di sfruttare questa cosa In una farm di creeper Cioè La vedo davvero dura Infine A che cosa serve questa farm E nella 1.14 Cambieranno la dinamica La fisica dell'acqua Allora Lo so Che cambieranno la fisica dell'acqua Anche perché ragazzi Vi ho fatto i video degli snapshot Dove l'ho spiegato Davanti A 100.000 persone O anche di più Quindi Lo so benissimo Il problema è che Ora che esce la 1.14 Passeranno mesi Uscirà In primavera Al momento È inutile pensarci Abbiamo un sacco di tempo E a che cosa serve questa farm Serve principalmente A vedere Un Charged Creeper Cosa che io non ho mai visto In questa serie E poi a sfruttarlo Per droppare La testa di un mob A noi interessano Tre teste Quella del creeper Quella dello scheletro E quella dello zombie Per collezionismo Ragazzi Tutto qui Quindi per ottenere Tre teste Avremo bisogno Di tre Charged Creeper Volete che ora Della 1.14 Dove questa farm Diventerà Diciamo Non funzionante Poi la potremo Comunque modificare Vuoi che ora Di tutti questi mesi Non faremo Almeno tre Charged Creeper Secondo me Ragazzi Ce la faremo Quindi Non deve fare Un chissà che cosa Questa farm È un progetto gigantesco Con l'obiettivo Di avere tre teste Per completismo Perché siamo all'episodio Oltre il 400 E ragazzi Ormai possiamo puntare Queste cose Che sembrano inutili Ma che sono Delle chicche estreme Che ci possiamo Permettere di fare Detto ciò ragazzi I creeper Arrivano Dalla loro farm Fino qui L'uscita della farm Dei mob È da quella parte In teoria Il cello del creeper Una volta intrappolato Nella cell Verrà scaricato Per ora Quaggiù Dobbiamo semplicemente Ora creare La zona mortale Per i mob Che cadranno da lì E unire poi Poi quella parte A questa parte In modo che Quando arriverà Il cello del creeper Noi saremo in grado Di mischiarlo Con gli altri mob E in questo modo Fare il drop Della testa Sarà una cosa Molto semplice Perché la farm Deve funzionare Con il danno Da caduta E deve essere in grado Di uccidere Quindi i mob Che cadono da lì Ma tramite L'utilizzo Di acqua Semplicemente Se vogliamo Possiamo salvare i mob E indirizzarli Da un'altra parte Per mischiarli Con il cello del creeper Quindi tra poco Faremo questa cosa Prima però Voglio fare Una cosa folle Quindi vediamo Se sono in grado Di acchiappare Un creeper Mi sta già seguendo Probabilmente Sì e di buttarlo In una cella Perché non sarà Per niente semplice Come cosa Anzi È più probabile Che sia io Cadere in una cella Che il creeper stesso Quindi creeper Riesci A buttarti Nella cella Non esplodere Non esplodere Please Non sarà Per niente semplice Perché secondo me Ok ragazzi 1 su 100 Ora ce ne mancano 99 E non sarà semplice Però pian piano Si può fare tutto Ovviamente Questo adesso L'ho fatto come prova Bisognerà farlo Tutto in un momento In modo che poi Non disponino E quei ragazzotti Laggiù Che continuano ad arrivare Sarebbe meglio Killarli Perché Oppure Li mettiamo No vabbè Li killiamo per il momento Perché Ho paura Che scappino E facciano casino Dovete sapere Che nel mentre Buildavo la farm Me ne è sfuggito uno È esploso E mi ha costretto A rifare una cella Mi ha dato Un sacco di fastidio Ma siccome ho failato La registrazione Quello che devo fare Che ho fatto È semplicemente Creare un percorso Di terra Di questo tipo Liberare Un creeper In teoria Si accumulano Sopra la staccionata Quanto siete fastidiosi In teoria Ho fatto un meccanismo Con la staccionata Per Con il cancello Per farne uscire Uno alla volta Però loro se ne sbattono Comunque facendo Un corridoio Di questo tipo Il creeper ci segue E va per forza A finire Dentro la cella Dove noi lo possiamo Chiudere Quindi molto semplicemente Questo è quello Che vado a fare Ora tutto ciò Al momento non serve Perché prima Dobbiamo concludere La fanno vera e propria Quindi svolazziamo E andiamo Fino a qui sopra Ok Perfetto Qui è dove Vengono creati Gli altri mob Quindi noi Sempre con l'acqua Questa enorme colonna I blocchi Così Dovrebbe già bastare Perfetto Ora Quello che devo fare È ovviamente Chiuderla Tutta quanta la colonna Prima di fare ciò Mi conviene costruire Un appoggio Per me stesso In modo che poi Io possa scendere qui E mettermi Alla vuole Ho lasciato aperto Il cancello I creeper Stanno entrando Stanno entrando Nella farm Stanno cadendo Nei buchi Da soli Oh Questo è un metodo Che non avevo considerato Beh Non lo disdegnerei Comunque Solo che poi Dobbiamo stare attenti A ucciderli tutti Perché sennò Fanno un casino Allora Per permettermi di lavorare Intanto chiudiamo Un attimino Questa farm Perché sennò Ragazzi Non ci lasceranno Neanche respirare Mob E adesso Possiamo tornare Pure giù Ok ragazzi Abbiamo chiuso il tunnel A parte Lo strato di terra Che per il momento Tiene Incollati Li mob Ora Qui dovremo Ovviamente Allungare il percorso E dovrò assolutamente Trovare un modo Per fixare Questo problema Della farm Perché così È altamente pericolosa Quindi cerchiamo di Tornare Al volo di sopra Dove Perché è spawnato Un ragno qui Non va per niente bene Questa cosa Ragno Tu qui Non puoi spawnare Quindi facciamo in questo modo E ovviamente Eliminare tutte le aree d'ombra È importantissimo Al fine di Evitare cose Di questo tipo Cioè che spawnino Mob indesiderati Tutti questi creeper Lasciamoli qui Perché sono molto pericolosi E torneremo Non appena Ho raccolto Alcuni materiali A casa E probabilmente Intanto De spawneranno Quindi possiamo stare tranquilli Quindi andiamo al volo a casa E poi Torniamo qui Quindi Di che cosa ho bisogno Ho bisogno di Tramogge E un paio di dispenser Qui abbiamo un dropper Ok quindi Devo fare tutto Quindi semplicemente Ci facciamo Due archi Per fare dispenser Ovviamente E in questo modo Possiamo subito Craftare i nostri dispenser Che si fanno Per il resto Con la pietra E la redstone Però Quindi non ho preso La redstone Ragazzi Questi crafting qua Me li scordo sempre Perché sono robe Che onestamente Non fai praticamente mai Qui abbiamo il dropper Ok e così abbiamo il dispenser Quindi facciamo Due dispenser Riprendiamo Tutta questa roba Converto questo legno E ci facciamo Due ceste E poi Con queste ceste E con un sacco Più di ferro E non quattro pezzi Cosa sto combinando Ci facciamo Ovviamente Quattro Tramogge Dopodiché In realtà Avrei bisogno Di altre ceste Ancora Per fare la zona Dove accumulare I drop Quindi facciamo un'altra Un'altra double chest E un'altra tramogge Quindi torniamo Alla nostra farm E immediatamente Mi devo mettere A chiudere Quell'affare lì Perché se mi sfoggo Un'altra creeper Capite che è un bel macello Quindi chiudi qua E poi Io direi Di Merda Non dico di merda Però Santo cielo ragazzi Perché poi Quando avrò finito Di fare tutta sta roba Mica sarà finita Qui dovrò anche fare Un modo Per muovermi Agilmente Da sopra sotto Perché per il momento Siamo un po' Nella cacca Qui non ci possiamo Neanche muovere Comunque Quello che voglio fare Adesso è Chiudere Con un bel tunnel Tutto qua Perché in questo modo Sono più tranquillo E so che I creeper Sfuggiranno Meno facilmente Dalle loro cavoli Di celle Quindi se chiudiamo Tutto questo E se mettiamo Anche Un paio di torce Per non far spawnare Roba indesiderata Qui Dovremmo essere Praticamente a posto Ok Questa possiamo toglierla E in teoria Qui c'è un creeper No Sono despawnati tutti Sì Quelli che erano caduti Qua sono despawnati Giustamente Tolgo questo E in teoria In teoria Dovrei essere in grado Di controllarli meglio Magari lasciando un blocco qui È ancora meglio Perfetto Ora Continuiamo a fare Quello che stiamo facendo Quindi devo tornare Essenzialmente qua giù Quello che voglio fare Molto semplicemente È mettere Le solite tramogge Con una chest Di raccolta Quindi semplicemente Scaviamo La torcia Ma rilasciamola per ora Scaviamo da questa parte Ok Andiamo a mettere Una Doppia chest Qui sotto Quindi Prendiamo Le chest E facciamo Uno E due Poi Andiamo a prendere Una tramoggia E la mettiamo Qui In modo che punti Alle chest E poi Costruiamo Un pavimento Due per due Quindi con quattro altre tramogge Ricollegate sempre a questa chest Prova del nove Prendiamo La nederac Ne droppiamo Una qui Una qui Una qui E una qui Vediamo se ci sono Tutte e quattro qui dentro Sì Perfetto Quindi le abbiamo collegate bene Ora questa parte qua La possiamo pure chiudere Queste torce Le possiamo pure lasciare Perché male non fanno in realtà Quello che adesso devo fare È mettere I dispenser Quindi una volta Chiuso Questo corridoio Dobbiamo mettere Due dispenser Qui Caricati ovviamente Con bucket d'acqua Quindi uno da questa parte E uno da quest'altra parte Acqua E altra acqua Quindi andiamo qui dietro ragazzi E una volta arrivati qui dietro I dispenser Li dobbiamo collegare A un input Di redstone Il che cosa vuol dire Mettiamo in questo modo Due repeater Prendiamo La cobblestone Mettiamo anche delle torce Già che ci siamo Per stare tranquilli Colleghiamo I due Repeater A della redstone E qui Semplicemente Possiamo fare Una roba così Quindi mettiamo Altra redstone E mettiamo La leva qua In modo che possiamo Attivare E attivando Apriamo il corso d'acqua Molto bene Il corso d'acqua Sì Funziona Egregiamente Sembrerebbe Per ora Lasciamolo pure spento Quindi A questo punto Qua possiamo anche Chiudere Una sorta di corridoio Comodo In modo che Non si rischi di cadere Da questa parte Basterà lasciare Uno spazio Di due blocchi Quindi qua possiamo chiudere Quindi succederà Che mob Cadendo dalla farm Moriranno Spiacificati Sulle tramogge I loro drop Finiranno qui dentro Quindi la farm Sarà funzionante Puoi riprenderti I bucket D'acqua Intanto Grazie Quando vorremmo invece Sfruttare il charge Creeper I mob Verranno portati In una corrente D'acqua Qui sotto Tra l'altro Devo valutare Fin dove arriva La corrente d'acqua Qua Magari conveniva Più che altro Un pulsante Però fa niente Va bene anche così E Ok Arriva fino a qui No Ancora potenzialità Quindi Fin dove arriva Scopriamolo Ok Quindi Arrivati a questo punto Scaricheranno I mob Qui sotto Dove preparerò Una piattaforma Stavo pensando A come farla E anche se In teoria Con l'acqua Tu puoi prevenire Le esplosioni Dei creeper Non mi fido troppo Di questi bastardelli Guardate quanti sono Oh mio dio ragazzi Dovevo farla qui La farm di Di polvere da sparo Quasi quasi Perché Cazzo Sono davvero un sacco Però Per ora Questo non ci importa Quello che a noi Importa è che Arrivate a questo punto Il Charged creeper Verrà Buttato Qui sotto E Un'altra Ennesima Corrente Lo accumulerà In una stanza Finale Qui Con gli altri Mob Probabilmente La farò in Ossidiana Così so che Non esplode nulla In questa stanza Charged creeper E mob Si incontrano Attiverò Il charger creeper Con un acciarino Creeremo L'esplosione Dropperemo La testa Fine Non c'è niente Da mostrare O da spiegare Di extra Dobbiamo solamente Creare una stanza Che accumula i mob Alla fine Abbiamo fatto tutto quanto Se la devo fare di Ossidiana Non la posso fare ora Perché come vedete Ho solamente 9 pezzi Quindi andrò nel land A fare altro Ossidiana Quello che posso fare ora Invece È niente Non sto neanche a Riattivare questa farm qui Perché potrebbe essere Pericoloso E non sto neanche Ad accumulare i creeper Quello che farò Tra una puntata e l'altra Invece Ve lo dico Intanto apriamo Le botole Che ho chiuso Perché il creeper È desponato Quindi è inutile Lasciarle chiuse Quello che farò Tra una puntata e l'altra Sarà Completare tutto Con quello che vi ho detto Accumulare i 100 creeper E come vedete Problemi numerici Non ne abbiamo Guardate quanti ce ne sono Il problema grosso Sarà Smistarli Quello sarà una bella Rottura di palle Però ci lavoriamo Una volta che li avrò Accumulati Mi metterò Mi metterò qui paziente E aspetterò la tempesta Quando arriverà la tempesta Attiverò la rec E speriamo che funzioni Il tutto Quindi ragazzi Siamo quasi alla conclusione Di questa enorme cosa Fatta per produrre Alla fine Tre mob Quindi sì Può sembrare inutile Ma ai fini del completismo È una cosa importante Ci tengo davvero un sacco Vedremo come funzionerà Nella prossima puntata Intanto io vi saluto Quindi un saluto Da Eren Blaze Ciao a tutti